L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ricevuto a braccia aperta il videomessaggio registrato di Volodymyr Zelensky e gli ha tributato una standing ovation. Durante il suo discorso il Presidente ucraino ha invitato il mondo a stabilire meccanismi per far pagare alla Russia il prezzo della guerra e dei suoi crimini. L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, il mondo vuole la pace. E abbiamo visto chi è l'unico a volere la guerra. C'è solo un'entità tra tutti gli stati membri delle Nazioni Unite che direbbe ora, se potesse interrompere il mio discorso, che è felice di questa guerra, della sua guerra. Dovrebbe essere creato un tribunale speciale per punire la Russia per il crimine di aggressione contro il nostro Stato. Questo diventerà un segnale per tutti gli aspiranti aggressori che devono dare valore alla pace o essere portati alla responsabilità davanti al mondo. Poco dopo l'intervento il governo ucraino ha annunciato lo scambio di 55 prigionieri russi, tra cui l'oligarca Viktor Medbechuk, con 215 detenuti ucraini, inclusi 5 comandanti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Da parte sua Putin, con una cerimonia patriottica a Velishki Novgorod, non lontano dalla sua San Pietroburgo, ha difeso l'operazione speciale in Ucraina e la leva obbligatoria annunciata nel discorso di mercoledì mattina. Essere un patriota è l'essenza della natura e del carattere del popolo russo. Nel corso dell'operazione militare speciale, i nostri eroi, soldati e ufficiali e i volontari stanno dimostrando proprio le più alte qualità umane, combattendo coraggiosamente, spalla a spalla, come fratelli, per il bene di salvare il popolo del Donbass, per il bene di un cielo pacifico per i nostri figli e nipoti, per il bene del loro paese natale, che sarà sempre libero e indipendente. Sempre più paesi stanno però condannando l'appello di Putin, l'escalation del conflitto e la minaccia del presidente russo di usare armi nucleari. Anche Pechino sta lentamente prendendo le distanze da Putin. Arresti e fughe nella Russia di Vladimir Putin. Oltre 1300 persone sono state arrestate mercoledì in tutta la Russia durante le manifestazioni contro la mobilitazione militare ordinata dal presidente Putin. La maggior parte degli arresti ha avuto luogo a San Pietroburgo, la città natale di Putin, dove la polizia ha usato il solito approccio violento per reprimere le proteste. Nella capitale Mosca la polizia ha arrestato più di 500 persone. Per le strade c'è indignazione ma anche paura. Putin ha iniziato questa guerra, che la maggior parte della gente normale non vuole, ma ha paura di protestare perché rischiamo di essere arrestati. Immagini simili di arresti sono state viste in almeno 38 città di tutta la Russia. La paura di dover partire subito per il fronte in Ucraina ha portato migliaia di russi a fuggire immediatamente dal loro paese. Qui siamo all'aeroporto di Ierevan in Armenia, un paese dove ai russi non serve il visto. Poco dopo che è stata decretata la mobilitazione, i biglietti per viaggiare sono aumentati vertiginosamente di prezzo. Non lo chiamerai panico, purtroppo uno scenario come questo era prevedibile. I biglietti non mi sono costati molto perché sono stato veloce a prenderli. Abbiamo attraversato il confine senza problemi. Siamo passati e volati via. Questa è una visita non programmata. Ho 17 anni, non ho ancora ricevuto la lettera dall'ufficio di reclutamento, ma sto studiando online come può essere contestata. Nel frattempo era meglio andarsene. Molti paesi europei stanno valutando a fronte di un possibile esodo di massa di uomini in età da guerra di vietare i visti turistici ai cittadini russi. L'Ucraina non cede di un centimetro. Il Ministero degli Interni di Kiev ha diffuso nei giorni scorsi questi video di soldati ucraini impegnati in esercitazioni militari. Da New York arriva il nuovo monito dell'Unione Europea attraverso il capo della diplomazia, Giuseppe Borrella. Ulteriori misure restrittive contro la Russia saranno portate avanti immediatamente, il prima possibile in coordinamento con i nostri partner. E voglio sottolineare in particolare un elemento importante. In linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa, di riprendere il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. E per questo continueremo a sostenere gli sforzi dell'Ucraina fornendo attrezzature militari per tutto il tempo necessario. Intanto anche a Melitopol, città della regione di Zaporizia, si stanno preparando i primi referendum per l'ammissione alla Russia dei territori ucraini occupati. Sanguina ancora in Messico la ferita dei 43 studenti scomparsi nel 2014. I loro parenti hanno sonoramente protestato davanti all'ambasciata israeliana di città del Messico per chiedere che un ex investigatore di alto livello ricercato in relazione al caso torni da Israele per consegnarsi alla giustizia. Tomás Serón, che aveva diretto l'agenzia investigativa criminale messicana, è accusato di aver manipolato l'indagine su una delle peggiori tragedie dei diritti umani dell'America Latina. Israele sta proteggendo Tomás Serón, che era capo dell'agenzia investigativa colpevole di aver torturato coloro che aveva arrestato per fabbricare la versione ufficiale del caso. Per questo i genitori degli studenti sono venuti a protestare. Si tratta di una richiesta all'ambasciata e al governo di Israele che consenta l'estradizione di Tomás Serón de Lucio in Messico. ha spiegato un membro del comitato dei genitori delle vittime. Il mese scorso una commissione incaricata dell'attuale governo di indagare sulle atrocità ha bollato il caso come un crimine di Stato. Ultimi preparativi per le elezioni presidenziali in Brasile. Primo turno in programma il 2 ottobre. Gli assistenti della Corte elettorale di Brasiglia applicano 8 sigilli di sicurezza alle urne elettroniche che in Brasile vengono utilizzate dal 1996 ma che sono diventate oggetto di polemica dopo le accuse da parte del presidente Bolsonaro di possibili brogli a favore dello sfidante Lula, il presidente del Tribunale elettorale. Questo momento è molto importante per la giustizia elettorale perché stiamo preparando queste urne per il giorno delle elezioni e dopo l'inserimento dei dati degli elettori e dei candidati mettiamo 8 sigilli su ciascuna delle urne firmati dal giudice elettorale di zona. E questi sigilli verificheranno l'integrità, la sicurezza, l'affidabilità dell'urna elettronica. In particolare nel solo stato di Minas Gerais 55.435 urne elettroniche saranno utilizzate per consentire ad oltre 16 milioni di minatori che vivivano e lavorano di esercitare il loro diritto di voto. Dieci prigionieri di guerra provenienti da paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna sono stati trasferiti in Arabia Saudita nell'ambito di uno scambio concordato tra Russia e Ucraina. Il gruppo comprende 5 cittadini britannici, 2 statunitensi, un marocchino, uno svedese e un croato. La premier britannica Tras ha ringraziato il controverso erede al trono saudita Bin Salman per la sua mediazione. Giuseppe Conte, avvocato difensore del popolo e la sua autodefinizione, originario di Foggia, sbucato praticamente dal nulla, eredita la guida del governo da Paolo Gentiloni e diventa presidente del Consiglio il 1 giugno 2018, scelto dal Movimento 5 Stelle con i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, insieme al quale il 24 settembre presenta il decreto su sicurezza e immigrazione. Poi vola la Casa Bianca per incontrare il presidente americano Donald Trump che qualche tempo dopo su Twitter sbaglierà il nome di Conte, storpiandolo in Giuseppe. Il governo giallo-verde 5 Stelle lega vacille e dopo nemmeno 15 mesi Conte va dal presidente Sergio Mattarella e presenta le sue dimissioni. Quando ottiene la fiducia del suo secondo governo, questa volta giallo-rosso con il PD, Conte incarna la figura dell'uomo forte e deciso, a cominciare dal Covid. Stiamo affrontando un'emergenza, un'emergenza nazionale. È l'era delle conferenze stampa e dei DPCM. La sua ascesa raggiunge il culmine a fine luglio 2020. Conte esce dalle trattative sulla quota del Recovery Fund da assegnare all'Italia con oltre 200 miliardi di euro a fondo perduto. Poi qualcosa inizia a scricchiolare e l'ultima spinta Conte la dà Matteo Renzi costringendola alle dimissioni, lasciando il posto a Mario Draghi il cui governo giura il 13 febbraio 2021. Poi Conte discute con Beppe Grillo, rompe con Di Maio, diventa presidente del Movimento 5 Stelle e ora affronta da outsider la sua prima avventura elettorale. Grazie. 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 Grazie.